I'm coming to take everybody out This is the second year in a row Un saluto da Simone, nutrizionista, allenatore e coach Finalmente ci siamo, i big guys, quelli grossi Mr. Olimpia 2024, categoria open Oggi andiamo con la nostra top 10, sappiamo benissimo, lo sappiamo che vale poco e niente perché poi parla solo il palco Su cosa ci basiamo? Sugli ultimi show e su quello che si può intravedere, che può trapelare da qualche foto ma soprattutto video di Instagram Oramai abbiamo questo Bene, ma come sempre, prima di guardarci insieme al Mr. Olimpia, ti facciamo una dose di Torello Eh già, pre-workout senza caffeina che migliora le tue prestazioni in palestra e in campo E non solo Ricordati poi Oh, ma lo diciamo da una vita Ma qui, le persone continuano a mettere like, a cliccare, a iscriversi, tin 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 la campanella Ma è troppo sbatti, ma io dico, ma seguimi, seguimi però, l'abbiamo detto, Olimpia, bisogna andare solo in un posto, Las Vegas ne vada Anche se magari un giorno, se tornassi in Italia, non sarebbe male, eh Ma seguimi allora, su Instagram, Facebook e TikTok Vieni poi sul gruppo Telegram, il gruppo più anabolico d'Italia E vai sul mio sito simonepagnottoni.it per prendere queste magliette oversize Riso, pollo, broccoli, maledetti natural Oh yeah E adesso, come sempre Andiamo al video Top 10 dove mi piacerebbe tantissimo che ci fosse il mio amico grandioso John De La Rosa Veramente una persona eccezionale, dei polpacci giganteschi enormi Ma soprattutto lui riesce a portare una condizione decisamente di alto livello da sempre Oramai è un bodybuilder super esperto 40 anni Ed erano 5 anni, 5 amici che non partecipavano all'Olimpia Però se la dovrà vedere con bodybuilder importanti come Mo Foda Come Hachim Williams E come William Bonack Ma come, Simo, non parli della notiziona Nick Walker fuori dall'Olimpia? Già Quali sono stati i problemi? E' uscito adesso anche un video di Antoine Vaillant che ne ha parlato Ne hanno parlato in molti, tantissimi esperti Le due condizioni che sono state esposte sono relative ai blood work issues Quindi problemi con gli esami del sangue E body not responding Quindi il corpo non stava rispondendo agli stimoli Ora, non voglio perdere tempo sullo speculare Su dire che cosa può essere successo E parlare male di questo grandissimo atleta Al quale auguro solo il meglio Torna più forte, più grosso, più tirato che puoi Nick Walker Ti aspettiamo già all'Arnold E sicuramente all'Olimpia E' giovane, può fare ancora benissimo E può regalarci grandi emozioni Quindi non voglio sapere cosa sia successo Non siamo qua per parlare di questo Facciamo solamente un grande augurio a Nick Di tornare in salute Stare alla grande E spaccare tutto sul palco E adesso però ci tocca rifare i pronostici Modificando un pochettino il tutto Perché l'assenza di Nick cambia chiaramente la top ten E allora al decimo posto può arrivare quest'uomo qui Guarda che roba Guarda che bicipiti fantastici Braccia clamorose Cosce super piene Uno dei migliori side chest Presenti sul palco Hakim Williams Bodybuilder espertissimo Ce la può fare Ad arrivare al decimo posto Nonostante i suoi 42 anni Per me può arrivare William Bon Per un semplice motivo Perché Ha battuto qualcuno come Berlus Tabani E perché In questo momento Si è affidato a uno dei coach migliori Sul pianeta Che è Stefan Kinzel Che lo porterà con ampia probabilità In una delle sue migliori condizioni Dell'ultimo periodo Chiaramente le gambe rimangono Un filino indietro Con questa poi asimmetria Tra l'arto inferiore destro e sinistro Così come una asimmetria A livello del gran dorsale E chiaramente questa vita Oramai molto larga Lui non l'ha mai avuta stretta Ma adesso con l'età La situazione è un po' peggiorata Attenzione qui a Instagram È sul side comunque molto bene Un front double bicep di tutto rispetto Soprattutto per i double bicep Qui i polpacci che si vedono frontalmente Niente male Side chest Assolutamente Era una brutta posa Lui con le braccia Aveva perso parecchio Ma sembra aver guadagnato qualcosa Nonostante chiaramente Stiamo parlando di Instagram Ma vediamo qui il picco Del bicipite presente posteriormente Lui appunto Dismetria oramai Un pochettino di atrofia Per quanto riguarda Parte del gran dorsale Sembra dovuto un infortunio Comunque si parlava di Danno addirittura di tipo Nervoso Mai avuto problemi a portare glutei striatissimi Un back lat spread che non è più quello dei tempi d'oro Eb Sentai lui qui la fa sempre in questa maniera particolare Andando a mostrare gli obliqui E meno la parte centrale Quindi il retto addominale Però sembra un filo migliorato In questa posa che però Non è tra le sue Al numero 8 Un bodybuilder che su Instagram Fa paura Perché fa paura Sul palco un po' meno Hunter Labrada Perché Pagherà gli inestetismi Visti Nello show di Milano Quindi questa protrusione A livello addominale O meglio quasi Substernale Sotto lo sterno E un pochettino Poi ne ha avuta una Che qui sotto ombelicale Quindi il fatto che gli addominali Non siano assolutamente prominenti E molto poco estetici Siccome L'infortunio al pettorale sinistro Che lo rende Estremamente piatto Può far sì che Hunter Nonostante Abbia delle masse impressionanti Specialmente per quanto riguarda Eccoli qui Gli arti inferiori Probabilmente Questo non sia sufficiente Per arrivare più in alto Vediamo qui Le braccia sono Pienissime Grandorsale Si apre abbastanza bene La forma è buona E sotto Fa paura Sotto fa semplicemente paura Però ripetiamo Questo Instagram Vediamo anche che Sul side chest Il braccio è molto molto pieno La coscia è voluminosissima Questo aggiornamento recente Siamo a fine settembre Back double bicep Direi Per niente male Anche la condizione Poi degli schioclurali Non tantissimo Quella del gluteo Questa è la sua posa Se poi fa vedere Il polpacetto dietro La Dorian Ancora meglio Molto bene Gli addominali Visti da qui Ma bisogna poi vedere Sembra non esserci Qui non si notano tantissimo Le due Piccole protuberanze Pettorale sinistro Si vede Eccolo qua Rispetto al destro L'infortunio Si sente E si vede Potrebbe fare meglio? Assolutamente sì Non lo vedo Più in alto Del settimo Magari Sesto posto Non di più Settimo posto Per un bodybuilder Decisamente estetico Per la categoria Che è Rafa Brandao Rafa Brandao Sta migliorando Anno dopo anno Andando a mettere Un casino Di massa Casino Veramente Vediamo qui La coscia di lato Fa paura Il back double bicep È ottimo La schiena È molto buona Ecco qui La condizione Degli ultimi giorni Rafa Ha delle buone Se non ottime gambe Una buona Se non ottima schiena Così come Il gran pettorale Le braccia Forse sono ancora Un filo meglio Non super mega devastanti Ma direi Molto molto valide Sicuramente Da top ten Qual è il punto? La vita stretta C'è C'è una buona apertura Del gran dorsale Rafa Non ha Punti deboli Non ha Grandi punti deboli Ma il punto È che non ha Nemmeno Grandi punti forti Non ha una schiena Migliore Dei primi sei Non ha Delle cosce migliori Della maggior parte Dei top 5 Top 6 Così come La condizione Non è estrema Quindi Difficilmente Perché Secondo tanti Potrebbe arrivare In top 6 Addirittura Top 5 Io lo vedo Personalmente Al momento Poi chiaramente Parlerà il palco Non credo Vada più in basso Di un nono posto E nemmeno Più in alto Di un sesto posto Che sarebbe già Un grande risultato Al sesto posto C'è un uomo Che fatica A tirarsi fuori La maglietta Perché ha una schiena Devastante Bellissimo Questo macchinario Oltretutto Mamma mia Non è più Quella dei tempi d'oro Ma rimane ancora Una grande schiena Quella di Brandon Curry Eccolo qui Questo è uno degli ultimi Aggiornamenti Bellissimo Questo rematore Singolo Chiaramente Con grosso compenso Ma chi se ne frega L'importante È che lui senta la schiena E con questa schiena Mi sa che ha ragione A fare qualsiasi Tipo di esercizio Non lo vedo più In basso Dell'ottavo posto Perché le gambe Sono sempre State un po' indietro E ora A 41 anni Probabilmente Lo sono Più che mai Quindi con l'hower body Farà fatica A tenere il passo Degli altri Nonostante il suo Ha persia meraviglioso Potrebbe scivolare All'ottavo Addirittura al nono Potrebbe Non più in alto Del sesto posto Anche lui I primi cinque Sono di un'altra razza Primi quattro Eh Primi quattro Perché Nick Come sappiamo Non c'è più Ed effettivamente Brandon Potrebbe Ancambire Al quinto posto Anche se Secondo me Al quinto posto Ci sarà Quest'uomo qui Dove c'è questo Bel ragazzone Con i suoi Pre workout In mano Mi fa morire Solo 27 anni Signori Martin Fitzwater Può essere Veramente Insieme a Rafa E insieme a qualcun altro La vera rivelazione Di questo mistero olimpia Destinato ad arrivare in alto Destinato ad arrivare in top 6 Se non in top 3 Se non a vincere qualche titolo Anche se l'hai in alto È molto duro arrivarci Perché Perché Martin È arrivato da poco E ha già messo in difficoltà Un ragazzino come Nick Walker Ricordiamo che A New York Pro Ha perso Di soli Due Punti Contro Il buon Nick Walker Forse uno dei pochissimi A reggere il confronto Con le braccia Più grosse dell'universo Che sono quelle di Nick Walker Al momento Anche lui Con il coach Stefan Kinzel Ecco qui La schiena La schiena fa paura La condizione Qui siamo a Tre settimane Eh Inizia a esserci qualcosina Qui dall'ultimo aggiornamento Possiamo vedere Queste braccia clamorose Che addirittura Prendono il sopravvento Sui deltoidi Pazzesche E lui è un altro bodybuilder Molto completo Che non pecca assolutamente Per quanto riguarda Gli arti inferiori E la schiena Dettagliata Piena Non al livello Dei primi Quattro Cinque Ma se la gioca La grande È Un bel casino Perché a parte I primi due Che sembrano ancora Giocare a un altro gioco Terzo Quarto E quinto posto È un disastro Perché? Perché Andrew Jacked Va alla grandissima Il Texas Pro ha portato Una condizione incredibile Se porta quella Può arrivare terzo È venuta fuori però La notizia dell'infortunio Forse un plausibile Probabile Infortunio Anche se la condizione Sembra esserci tutta E Chris Assito Ha detto Che punterà Più sulla massa Che sulla condizione Ahimè Non sappiamo Se questa Potrà essere La scelta giusta Perché Peccava proprio Di condizioni Nel lower body Posteriormente Quindi Gluteo E ischio crurali Femorali E un pochino Anche sulla schiena Potrebbe veramente Portare qualcosa In più Che Secondo me Non porterà Samson Dauda Perché? Perché Samson Dauda Ha appena gareggiato Signori Se gareggiare Fosse Un vantaggio Prima dell'Olimpia L'avrebbero fatto tutti Quindi questo Non dico che sia un errore Una strategia Magari vuole prepararsi bene Per il 2025 Però Con ampia probabilità Lo porterà A non avere Una grandiosa condizione Sul palco Quindi Terzo Quarto Posto È difficilissima Per questi motivi Ci sono Una serie di intrecci Che rendono Questo pronostico A mio avviso Infattibile Credo che forse Quello che potrà Risentirne più di tutti È Samson Che nonostante Dei quadricipiti Devastanti Braccia piene Gran pettorale pieno La schiena Forse Non una delle migliori Per quanto riguarda La top six Anzi Nonostante sia migliorata Parecchio Anche la condizione Di gluteo Eschio crurali Abbiamo ancora Bicipiti Che non sono Super pieni A livello di piccole Braccia Lo sono sicuramente 38 anni 1,82 Ecco qua È l'hudspread Che è veramente Devastante Ma non è Ai livelli Dei primi Col fatto che si faccia Preparare dalla moglie È stato anche criticato Da molti Perché Nessuno Mette in dubbio Le competenze Della buona Marlena Però Con tutti i preparatori Che ci sono Strano Andare a scegliere Proprio la propria moglie Che però ci sta Per carità Non lo critico Assolutamente Per questo Lui è abbastanza Intelligente Da capire Come gestire Al meglio Il tutto E probabilmente Ha trovato In sua moglie La persona migliore Che forse Gli permette Anche un po' più Di libertà E forse È di questa libertà Che Samson Ha bisogno Per me Non una grandissima mossa A fare questo show Per quanto riguarda L'Olimpia Ma bisogna andare prima Come ha fatto Adi Che è già da un mese Che di Come fece Big Rami Prima di vincere Il suo primo titolo Spostarsi all'ultimo Avendo poco più Di una settimana Per prepararsi Perché alla fine Per una cosa e l'altra 8-9 giorni È un po' dura Vero che è già in condizione Perché ha appena fatto una gara Però Rimane comunque dura Arrivare in top 3 E allora Veniamo a La top 2 I primi due Con ampia probabilità Saranno sempre loro Anche se Adi Ciupan Ha portato una condizione Incredibile All'Arnold Classic E secondo alcuni Potrebbe spodestare Derek Anche perché Secondo alcuni Meritava di vincere All'Olimpia 2023 Derek però Ha fatto un anno Intero Di off-season È giovane Arriva dalla 2-12 Ha messo Con ampia probabilità Se non sicuramente Delle buone Palate Di massa muscolare Specialmente Sui punti deboli Come i quadricipiti Tanto criticati Che rimangono Comunque ancora indietro Ma vedremo Vedremo perché Comunque Qualcosina trapela Su Instagram La schiena Lo sappiamo Indiscussa Gran pettorale Deve migliorare Vediamo Se porterà Questi miglioramenti Secondo me Non ci saranno dubbi Perché l'abbiamo detto Quando all'esordio Derek Lansford Esordio nella Open Perché arrivava Dalla 2-12 Campione Champ champ Infatti lui Esordio Mister Olimpia Arriva a secondi E abbiamo detto Questo ragazzo È destinato A vincere Diversi Send out Tanti titoli Di Mister Olimpia Quindi signori Per me Non ci sono Troppi dubbi Derek Lansford Stil Mister Olimpia 2024 Ecco qui Possiamo vedere Qualcosina Del gran pettorale Ci sono già Delle striature Delle fibre Chiaramente Qui in allenamento In pump Ma ci sono Dei piccolissimi Dettagli Che potrebbero Far intuire Che la condizione Anche lì È migliorata L'apertura Mamma mia La densità Quanta carne C'è su questa schiena È troppa È troppa Mettila un po' in salvo Vendila Fai qualcosa Vediamo le cosce Ci sono già Degli ottimi dettagli Qui dietro Vero che è Instagram Vero che il palco Poi è un'altra cosa Però Volume del quadricipi Si vede Molto bene Da dietro E gli schi crurali E anche i glutei Iniziano già A mostrare Qualche dettaglio Molto importante Però Questo ragazzone Non è proprio Da meno Quindi sarà Un'altra bella battaglia Ma secondo me Derek Lansford Ad oggi Difficilmente battibile Cosa dovrebbe accadere Dovrebbe arrivare off Ma Non vediamo Il minimo motivo Per cui questo Possa accadere Certo Certo Manca ancora una settimana E tutto può succedere Personalmente Difficile Non scommettere Su Derek Con questa schiena Come fai Non scommettere Su Derek E allora Anche oggi Prima di allenare La tua schiena Ricordati Di prendere Un grande Pre-workout Se non ti piace La caffeina Se non la toleri Torello Senza caffeina Migliora le tue prestazioni In campo In palestra E non so Ricordati Che anche oggi Io non lo so Come si fa Con tutta la massa Muscolare del mondo Troppo sbatti Mettere like Iscriversi al canale La campanella Lascia stare Guardati il mister Olimpia Tranquillamente Sarà le due Le tre di notte Quello che è Ma è troppo sbatti Mettere like Ma seguimi Seguimi Abbiamo detto ancora Las Vegas Nevada Ci andiamo Ci andiamo Questo mistero Olimpia 60 anni di mistero Olimpia Quest'anno Su Instagram Facebook E TikTok Oh Maglietto Versailles Risopollo Broccoli Maledetti Natural Sul mio sito Ma vieni Dove facciamo un po' di pronostici Anche qua ci divertiamo Sul gruppo Telegram Il gruppo più Anabolico d'Italia Dove parliamo chiaramente I bodybuilding E tutto quello che ci sta intorno E allora Noi ci vediamo però A una fantastica live Che faremo venerdì Pre-Olimpia Dove iniziamo già a vedere Tanti dettagli Dove oramai Si scoprono le prime carte Eh Quindi lì parliamo Insieme Chiaramente Confrontandoci sempre Di quello che arriverà Vincerà Chris Vincerà Derek Nice Physique Se interessa qualcuno La 2.12 Perché Zagarella Che gareggia adesso O meglio Quando farò il video Avrà già gareggiato Anche lui Gareggiare una settimana Prima dell'Olimpia Vuol dire che Punta già Al 2025 Grande Zaga E allora Noi ci vediamo Alla live di venerdì E al prossimo video E allora come sempre Saluti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti